Dalla luce la sua creatura, un parto avvenuto in casa per poi ferirla alla gola e abbandonandola nel giardino. I carabinieri hanno arrestato i posti domiciliari, una 34enne di Martano che ora si trova presso una comunità riabilitativa assistenziale del Salento, su disposizione del PM di turno presso la procura della Repubblica di Lecce, Paola Guglielmi. La donna è accusata di tentato omicidio aggravato della figlioletta. Tutto è cominciato all'alba dello scorso 23 luglio, quando l'indagata è giunta presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dopo aver dato al mondo la piccola all'interno della propria abitazione. A quanto pare, clandestinamente, la gravidanza sarebbe stata portata al termine tenendo all'oscuro sia il compagno con cui aveva già un'altra figlioletta di appena tre anni, momentaneamente affidata a dei parenti, sia la famiglia. Dopo il parto, secondo i carabinieri, la madre avrebbe ferito alla gola la piccola con l'intento di provocarne la morte. Fortunatamente, senza riuscirci, la bambina è stata soccorsa dai familiari e affidata alle cure del personale medico ed è fuori pericolo. Le indagini sono ancora in corso, diversi punti oscuri della storia su cui stanno lavorando i militari dell'arma e la magistratura con il massimo riservo.